Casse acustiche a tutto volume, insulti ad una residente, aggressioni a due passanti, colpevoli solo di essersi fermati a guardare e per finire minacce, ingiuri e poliziotti. Per quel pomeriggio di ordinaria follia, cinque giovani aspiranti rapper andranno a processo. La vicenda risale al 18 dicembre del 2021. I cinque ragazzi, tutti stranieri di seconda generazione residenti a Padova, Vigonza, Campo San Martino e Livorno, stavano registrando un videoclip ballando in mezzo alla strada in via Luini, nel quartiere Arcella. La musica a tutto volume stava disturbando l'intera via. Un'anziana facciatosi per chiedere ai ragazzi di smetterla è stata insultata e minacciata. Due passanti sono stati colpiti. Gli agenti della squadra mobile arrivati sul posto avevano trovato una ventina di giovani intenti a registrare un video. Uno di loro stava fumando uno spinello. Cinque di loro hanno accerchiato i poliziotti, offendendoli, minacciandoli, riprendendo la scena con i cellulari. Sul posto anche le volanti che hanno bloccato, identificato tutti i cinque più violenti, ora sono stati rinviati a giudizio. Due di loro avevano precedenti per stupefacenti, resistenza e oltraggio. Uno di loro aveva anche urinato sulla porta della caserma dei carabinieri di 90 Padovane e durante un controllo aveva colpito uno con una cintura, un militare.